Che bella acqua, che bel momento! Peccato, perché siamo in uno dei più bei parchi di Arezzo Che è il Parco Giotto, parco per... Siamo parco per ogni, meglio conosciuto come Parco Giotto Però ho delle problematiche importanti fra cui questa dell'acqua che veramente è un'indecenza tenere un putridume così di una piscina è proprio vero che Arezzo non siamo capaci con le piscine, con le fontane non c'entra a fare Bagne, fontane Niente, assolutamente E qui veramente l'acqua, non so da quanto anni è che non la cambiano effettivamente è tutto sporco il fondo è tutto suddicio anche le foglie che vanno lì si imputridiscono e quindi di conseguenza sporcano l'acqua sono lontani i ricordi in cui c'erano i cigni Ti ricordi qui? E fino hanno fatto? Ah non lo so, sicuramente l'hanno portato via perché in queste condizioni qui non possono... Sono suicidati A sta crisi si suicidavano sicuramente No, effettivamente qui con tutti i bambini che ci sono tutte le persone che vengono vedere una situazione del genere non fa piacere penso ci sia una soluzione per votarla questa vasca e dargli una pulita Quindi portarci anche qualche animale L'animale diventa un po' difficile un po' che mi hanno fatto i ricoveri Scusa ma non c'è qui qualcosa per ricambiare l'acqua? Allora c'è questo lampione Penso proprio di sì Questi qui sono per metterci l'acqua sicuramente poi ci saranno anche poi deciso di aprire per mandare via l'acqua e ripulire Stato sta gocciolando Secondo me ogni tanto aprono un po' d'acqua Grazie che un po' ragazzi Non lo so ma qui va pulito il fondo non può lasciarle in queste condizioni Penso che magari un po' d'acqua ce la butti Non so cosa ci sia l'acqua in quel punto là E qui ci va di tutto Ora a parte l'inciviltà che ci può essere dalla gente ma in un posto così aperto il vento tira quasi tutti i giorni e quindi di conseguenza butta dentro la vasca e poi rimane qui e sporca è veramente anche l'odore lo senti l'odore dell'acqua Che fortuna in questo caso ci ho il naso un po' chiuso quindi non lo senti Va bene E poi dopo c'è l'anno successo del bar che il comune vorrebbe investirci fare aprire però Infatti noi eravamo stati qui qualche giorno prima con SS sollevando tra le altre cose il problema del bar chiuso e qualche giorno dopo sempre per caso è stato il comune ha lanciato questo bando per aprirci addirittura un bar e un ristorante e chissà se qualcuno si farà avanti Queste strutture nei parchi non hanno tanta fortuna perché sicuramente questa è un'attività che si dovrebbe svolgere soprattutto una bella attaccione all'aperto però in mezzo alle case diventa un problema per il chiasso e quindi di conseguenza tenere una struttura del genere soltanto per tenerla chiuso diventa veramente difficile poterla gestire non lo so chi possa essere quello che eventualmente ci vuole un buon imprenditore che riesca a farlo funzionare non ci vuole una persona qualsiasi che si avventuri in una situazione del genere qui ci vuole un buon imprenditore che sappia fare il suo mestiere che gli dia la giusta pubblicità e gli dia soprattutto il giusto fine particolare per attivare la gente altrimenti diventa veramente difficile e poi è anche un grosso investimento però siccome dei bar che hanno aperto di successo non in un parco ci sono quindi ci sarebbero anche degli imprenditori che sanno come si fa perché tu pensa se ci fosse qui un bar pasticceria dove fare gli aperitivi dove tipo quei bar senza fare nomi e pubblicità che hanno aperto anche altri punti vendita non solo ad Arezzo ma si sono allargati tanto può darsi che in questa zona abbia successo anche il ristorante stesso tu pensa mangiare qui nel parco è una bella cosa gli anni ti vogliono portare una macchia direttamente dentro il bar quindi però qui lontano non sarebbe c'è un parcheggio grande c'è un parcheggio grande anche abbastanza usufruibile beh non lo so ci vuole qualcuno come negli anni passati è stato fatto per altre realtà vedi al prato funziona eh sì lì è sempre funzionato perché puoi fare quello che ti pare perché c'è casa eh esatto puoi fare quello che ti pare e non sei condizionato dalle gente che sta intorno e che logicamente al ciasso che viene fatto poi protesta mentre al prato puoi fare il ciasso che ti pare capito? quello conta eh conta conta tantissimo beh sperando che quest'acqua insomma venga ricambiata più spesso e soprattutto più che acqua perché probabilmente ogni tanto qui l'aprono è il fondale che è da ripulire sì credo qui c'è una melma abbastanza alta ci vediamo domani ciao